come ha detto Turkish Airlines che secondo lui è uno sponsor del Golfo Persico quello del Qatar e poi e poi ora ha cambiato strategia non c'è più non escludiamo nulla potrebbe esserci un nome mai fatto pezzo di informazione l'è questa oddio oddio allora allora ho letto una cosa che stavo pensando anch'io in questi giorni e mi piace quello che ho letto po' fa ho letto che Inzaghi potrebbe avere un dubbio sull'esterno sinistro da schierare in finale di Champions League un nome mai fatto oddio mi fa morire mi fa morire meglio di un comio allora c'è in testa Gosens Inzaghi io te lo dico è un'ottima idea l'ho criticato tanto tante volte Gosens non ho problemi a riconoscerlo io però ti dico io ti dico che è un'ottima soluzione quella di Gosens titolare contro il City a parte che a livello diciamo difensivo è più bravo di Di Marco Di Marco è un bel giocatorino lo sappiamo tutti un ottimo sinistro lanci di 40 metri lo sappiamo tutti quello che può darci Di Marco durante una partita ma Gosens ti dà fisicità e ti dà molta più fase difensiva visto che c'è quel rompi coglioni da quella parte di Bernardo Silva ora siamo tutti allenatori è vero siamo 60 milioni di allenatori in Italia sono d'accordo poi quelli bravi allenano e guadagnano 6 milioni all'anno se l'Inter non giocherà sulle fasce come io penso che faccia e prediligerà le verticalizzazioni te sulle fasce dovresti giocarci poco quindi mettendo Gosens che è molto ma molto bravo a ribaltare l'azione perché io Gosens l'ho visto tonico l'ho visto bene nelle ultime nelle ultime uscite mi dispiace quando si fece male alla spalla dopo il gol lui lì stava stava proprio prendendo fiducia come ha preso fiducia in condizione Lukaku ecco Gosens e Lukaku erano sullo stesso piano ma soprattutto Gosens a parte quel rompicoglioni di Bernardo Silva lì sulla fascia Gosens ti dà quella solidità difensiva che potrebbe permettere a Bastoni di preoccuparsi meno perché comunque quando gioca Di Marco Bastoni sistematicamente gli copre le spalle quindi Di Marco Bastoni potrebbe con Gosens titolare potrebbe occuparsi molto di più della fase centrale ovvero sia della zona centrale dell'area centrale dove gravita quel rompicoglioni biondo di Holland e gli inserimenti dei centrocampisti lo stesso Grillis spesso si accentra e va ridosso del biondo e quindi Gosens ti potrebbe dare fase difensiva fisicità e ribaltamento dell'azione cioè Gosens ribalta l'azione secondo me a mio avviso molto molto meglio di Di Marco poi è anche vero che gli esterni con i zaghi devono saltare l'uomo e creare superiorità numerica ma se te mi giochi in verticale e secondo me l'Inter contro il Miss City giocherà le stesse partite contro il Milan in Champions e contro l'Atalanta giocherà in quella maniera lì io sono convinto di questo non giocherà sulle fasce non non fraseggerà al centrocampo e soprattutto toglierà cioè non giocherà da dietro l'Inter perché comunque giocando da dietro i pressing che fanno degli animali te le porti tutti in aria quindi l'Inter niente zero gioco da dietro scusami palla centrocampo due tocchi via verticalizzazioni e lanci lunghi di Onana poi tra l'altro secondo me giocheranno tutti e due sia Gosens che Di Marco perché nessuno dei due tiene 90 minuti quindi devi comunque calcolare di farli giocare tutti e due ci siamo solo che uno dei due tra Gosens e Di Marco quello che fa molta più differenza da subentrato di Di Marco non è Gosens Gosens rende molto meglio quando parte titolare rispetto a quando entra quindi Di Marco invece ti può cambiare un po' più la partita rispetto a Gosens poi ci sono i calci piazzati quindi io lo vedo un Gosens titolare o un Di Marco che gli subentra ho sentito il Cezzi manda via tanta gente io ragazzi se non sanno dove metterlo Matteo Kovacic lo riprendo poi se poi anche i culibali non sanno più di cosa farsene io prendo anche i culibali questi sono giocatori da prendere secondo me Marco poi ho sempre avuto un debole ragazzi mi chiedete di Spalletti sì l'ho conosciuto ma non lo conosco bene non è che ci parlo tutti i giorni ho Spalletti la prima volta ci ho parlato un anno e mezzo fa grazie a un mio amico che lavora diciamo con il suo agriturismo perché Luciano ha un agriturismo qui a 30 km da casa mia forse meno di 30 km perché va via a Napoli perché Spalletti va via da Napoli perché secondo me ha visto quello e vide i conti all'Inter ha visto che è finita è finito un ciclo secondo me qualcuno venderà dell'Aurentis e ora ricerca dell'allenatore seggio Consenzao gli piace 18 milioni di clausola non è facile trovare un allenatore a me e Luciano ragazzi non è facile evidentemente Luciano se ha deciso di fare il vino per un anno come decise di farlo dopo l'Inter avrà i suoi buoni motivi non è pazzo stasera c'è la finale con Giuse e ragazzi la Roma ci sta tutti sui coglioni parliamoci sinceramente io però quando vedo Giuse in finale che sicuramente dicono che sia l'ultima partita di Morigno alla Roma ma io quando vedo Giuse in finale ragazzi io sono per lui poi fate Vobis ma io Giuse in una finale lo tifo io mi farebbe piacere se vincesse lui con questo concludo questo ricordatevelo sempre che non si mangia e soprattutto per chi ha un canale YouTube non sa nemmeno come è fatto ciao Inter grazie a tutti grazie a tutti